Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar nel 2024 di SRA Academy. Quest'oggi avremo con noi la dottoressa Daniela Peroni e il dottor Daniele Morosini che rispettivamente ci presenteranno sfide e opportunità per una tecnica GCMS più sostenibile con idrogeno come carrier gas, quindi sarà questo il titolo della presentazione della dottoressa Peroni e a seguire ci sarà la relazione del dottor Morosini, VOC in acqua e aria, soluzioni analitiche con idrogeno. In questo webinar condividiamo quindi l'avanzamento nelle tecniche di analisi con carrier idrogeno con l'obiettivo di abbattere costi e limitazioni che sono tipici dell'uso di bombole con elio. Vi presentiamo quindi anche l'esperienza su diversi fronti applicativi con particolare attenzione alla rivoluzione nell'analisi purgen trap GCMS e TD GCMS. A questo punto quindi passo la parola alla dottoressa Peroni per dar via al nostro webinar. Grazie. Grazie Laura per la gentile presentazione e buongiorno a tutti e grazie per esservi collegati a questo webinar SRA. Il mio nome è Daniela Peroni e sarà mio compito fare la parte introduttiva per quello di questo webinar, per quello che riguarda le sfide e le opportunità collegate all'implementazione dell'idrogeno come carrier gas per la tecnica GCMS. A seguire il collega Daniele Morosini andrà ad approfondire aspetti applicativi e interfaccia con sistemi di introduzione del campione. Innanzitutto cercherò di introdurre il concetto di sostenibilità e come questo ci porti la necessità di sviluppare la tecnica GCMS, quindi anche quelli sono gli obiettivi di questo filone di ricerca. Questo ci porterà a valutare l'utilizzo dell'idrogeno come carrier gas per la tecnica GCMS. Sarà mio parcero mostrarvi i risultati ottenuti presso il nostro demo laboratorio di Cernusco sul Naviglio relativamente all'utilizzo di idrogeno appunto come carrier in GCMS. Alla fine della mia presentazione cercherò di trarre delle conclusioni per lasciare un messaggio che sarà di lancio per la seconda parte di questo webinar. Allora innanzitutto perché parliamo di sostenibilità, di greenness e quindi di tutti questi aspetti di tecnologie verdi. Questo perché il mondo sta andando come ben sapete in questa direzione. Ci viene sempre più richiesto di prestare attenzione a livello globale alla sostenibilità. Questo con particolare enfasi si riferisce all'utilizzo di risorse specialmente quando queste non sono rinnovabili e che quindi potrebbero andarsene esaurire. Dobbiamo quindi, ci viene richiesto di favorire risorse che siano invece rinnovabili e anche di ridurre quindi l'impatto ambientale di quelle che sono le nostre attività industriali. Questo è un trend globale a cui la chimica analitica non si sottrae. Non siamo quindi eccezione ma dobbiamo pensare a quelle che siano soluzioni per i vostri laboratori che siano sempre più green e quindi verdi e accessibili e environmentally friendly. Questo ha lo scopo di renderci più appunto sostenibili in un mondo che lo richiede tagliando costi con un occhio anche alla produzione di rifiuti per esempio nei laboratori e anche di ridurre il consumo energetico che ci viene richiesto. Dei trend diciamo molto importanti che sono stati quindi che si possono osservare negli ultimi anni a livello di chimica analitica per questo filone sono la minutarizzazione, la riduzione o sperabilmente eliminazione di solventi, il prediligere tecniche che riducano il consumo energetico e anche ovviamente gli aspetti logistici che possono avere un impatto ambientale. Come si posiziona la tecnica GCMS in questo ambito? Diciamo che non viene considerata come una tecnica green, una tecnica molto sostenibile in quanto altamente energivola. Questo è indubbiamente vero, allo stesso tempo è vero che la GCMS è una tecnica di riferimento nei laboratori, è il golden standard per molti ambiti analitici, non possiamo prescindere dalla GCMS per molte analisi, sia a livello qualitativo che a livello anche quantitativo. Quindi i nostri sforzi sono mirati a cercare di cambiare, avanzare la tecnica per renderla più accessibile e sostenibile ove possibile. uno dei fattori più limitanti da questo punto di vista della GCMS è l'utilizzo del l'elio come gas di trasporto, chiedo scusa, come gas di trasporto e ho un piccolo problemino tecnico, come gas di trasporto e questo perché l'elio è, chiedo scusa un secondo, ho un piccolo problemino tecnico. Ok, risolto, vi chiedo scusa, quindi abbiamo l'elio come gas di trasporto che storicamente viene usato per la sua inerzia. Questo però non è una risorsa sostenibile in quanto è una risorsa, come voi saprete molto bene, scarsa. Il costo è in continuo aumento dell'elio e quindi anche l'approvvigionamento può diventare problematico, da un lato per il punto di vista del costo, dall'altro per la certezza sempre meno solida dell'approvvigionamento stesso. Infatti per l'elio non si possono utilizzare generatori, ma dobbiamo altresì dipendere da delle bombole. Le bombole non possono essere ovviamente stoccate in una quantità specialmente molto elevata fino a un certo punto e quindi dobbiamo dipendere dal trasporto. Questo ha dei costi intrinseci, quindi il costo di noleggio delle bombole a lungo termine, i costi di trasporto e anche ovviamente quindi l'impatto ambientale del trasporto stesso. Inoltre trattandosi di una risorsa in diciamo sempre più scarsa, come abbiamo già detto, possiamo anche trovarci nello sfortunato caso in cui il nostro fornitore non sia in grado di portarci l'elio in tempi brevi o in tempi comunque ragionevoli per i nostri obiettivi. Quindi ci possiamo trovare addirittura a dover fermare le macchine se non ottengo la consegna delle mie bombole di elio in tempi opportuni. Quindi dobbiamo trovare un'alternativa, dobbiamo trovare un altro gas di trasporto che sperabilmente non abbia tutte queste limitazioni. L'idrogeno è sicuramente in questo ambito un gas che viene considerato, che negli ultimi anni ha ricevuto molta attenzione, andremo ora a parlarne in maniera più approfondita. Prima di tutto possiamo chiederci, potrebbe essere una domanda che voi vi fate, posso utilizzare l'idrogeno come valida alternativa in gas cromatografia? Ora la risposta è chiaramente sì, come sono sicura molti di voi già sapranno, in quanto l'idrogeno è conosciuto come un eccellente gas di trasporto in gas cromatografia. Infatti ha delle caratteristiche cromatografiche estremamente favorevoli in termini di risoluzione e rapidità. Infatti l'idrogeno ci consente di avere una risoluzione eccellente e allo stesso tempo di minimizzare la durata dell'analisi. Quindi in questo modo possiamo ovviamente massimizzare le nostre ore lavorative e analizzare un numero maggiore di campioni senza sacrificare la qualità della nostra analisi. In aggiunta l'idrogeno ci permette di passare a colonne con un diametro più piccolo, il famoso narrow board columns, quindi con un diametro di 0,18 mm o addirittura inferiore, e di avere quindi dei picchi molto stretti, dei picchi molto stretti con un segnale rumore molto molto favorevole, con queste colonne appunto con un diametro ridotto. Quindi tutti questi aspetti finora sono molto positivi, mi aggiungerò un altro meno analitico, più pratico, ma sicuramente a mio avviso altrettanto importante, è la possibilità di svincolarci nelle limitazioni sulle bombole di cui ho parlato precedentemente e di usare generatori. L'idrogeno infatti può essere generato appunto con della strumentazione predisposta in tal senso e questo ci svincola da tutti gli aspetti logistici di trasporto e anche dal rischio di dover interrompere l'operatività. Questo noi per esempio lo facciamo anche nel nostro demo laboratorio, dove, ove possibile, siamo attrezzati con dei generatori di idrogeno che ci permettono di lavorare senza nessun rischio di dover interrompere il lavoro perché, diciamo, finisce per esempio la bombola del gas. Inoltre il generatore ha un altro vantaggio, c'è sicuramente un investimento iniziale che va fatto per acquistare il generatore stesso, però molto molto importante è anche il fatto che questo poi verrà, questo investimento verrà ammortizzato a medio e lungo termine. Una volta che io ho lo strumento che funziona nel mio laboratorio, io so di poter lavorare in maniera assolutamente sicura, continua e ha un costo che è già stato, diciamo, ammortizzato. Inoltre da non sottovalutare è il discorso sicurezza. Può essere un argomento di preoccupazione per chi, come magari di voi, sta considerando di usare l'idrogeno come carrier gas in laboratorio. Oggigiorno l'utilizzo dei generatori ci dà una garanzia di sicurezza in più. Infatti i generatori sono provvisti di misure di sicurezza che vanno a interrompere la produzione di gas sotto determinate condizioni indicatrici di una perdita. Inoltre possiamo anche fornirci di sensori di idrogeno, sia ambientali che mirati all'interno del forno del gascomatografo, per aumentare ulteriormente la nostra sicurezza. Una brevissima parentesi per dire che l'idrogeno può essere utilizzato anche nella gascomatografia bidimensionale comprensive. Come SRA noi crediamo molto in questa tecnica e ne siamo esperti, abbiamo nel nostro portfoglio diverse soluzioni sia con modulazione a flusso che con modulazione termica. Questo perché la GC per GC ci dà un potere separativo di caratterizzazione superiore avanzato, come potete vedere in questi esempi di cromatogrammi nell'ambito petrolchimico. Quindi diciamo che può essere una tecnica di sicuro interesse nei laboratori che hanno sfide analitiche molto avanzate. Non ci sono limitazioni particolari nell'utilizzo dell'idrogeno come carrier dei GC per GC. Quindi tutto quello che è stato detto fino adesso si può traslare dalla GC convenzionale anche alla bidimensionale comprensive. Ora arriviamo alla parte più significativa di questa presentazione che è invece la compatibilità del cario di idrogeno con la rilevazione in massa. Questa è la parte più critica perché storicamente l'idrogeno non viene usato con sistemi GCMS. Questo perché l'idrogeno non è un gas inerte. Normalmente si utilizza l'elio, è storicamente il gas prediletto e se vogliamo essere del tutto oggettivi l'elio è stato e rimarrà il gas prediletto preferito a livello di prestazioni in GCMS. Le alternative che noi stiamo cercando si collegano a tutta la situazione sulla scarsità di l'elio descritta fino ad ora. L'idrogeno non è un gas inerte quindi ci può dare delle reazioni chimiche o comunque delle interazioni indesiderate durante il processo di frammentazione. Il punto critico di attenzione è quindi a verificare se noi possiamo garantire la qualità spettrale, quindi la fedeltà rispetto alle librerie commerciali che voi siete abituati ad utilizzare tuttora in elio. Un altro aspetto da valutare è la sensibilità. Posso raggiungere la stessa sensibilità con l'elio che con l'idrogeno che sono abituato ad avere in elio? Un'altra cosa è valutare poi le applicazioni. Posso utilizzare l'idrogeno in GCMS sia per analisi target che è un target? Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda. È importante sottolineare che dato la rilevanza di questo argomento c'è uno sforzo significativo negli ultimi anni verso lo sviluppo di nuove tecnologie dedicate alla GCMS. Un esempio è la sorgente Hydro Inert di Agilent, entrata sul mercato in tempi abbastanza recenti, che appunto è stata sviluppata, progettata e sviluppata appositamente per l'utilizzo del cario di idrogeno in GCMS. Questa sorgente è compatibile con, faccio l'esempio, dei più recenti sistemi quadrupolo Agilent, quindi potete acquistare un sistema partendo da Android, ma può essere anche un upgrade a un sistema esistente. La cosa fondamentale dietro lo sviluppo dell'Hydro Inert era cercare da parte di Agilent di garantire tutto quanto detto finora, quindi cercare di minimizzare la dipendenza dall'elio, dalle bombole, massimizzare il ritorno di investimento sull'utilizzo di generatori di idrogeno e mantenendo anche la nostra qualità navitica con separazioni rapide e efficaci, riducendo però quelli che sono i rischi che vi ho appena menzionato sull'utilizzo dell'idrogeno e quindi riducendo la possibile perdita di sensibilità e riducendo al minimo anche le anomalie speciali che potrebbero avere il luogo utilizzando un gas di carie non inerte. Voglio anche spendere pochi secondi per aggiungere che da un punto di vista pratico un altro vantaggio dell'Hydro Inert è che durante il suo utilizzo, grazie a un effetto particolare del carie di idrogeno, è un'assorgente che si autopulisce, quindi non richiede manutenzioni preventive in cui il sistema vada aperto, la sorgente vada pulita con un approccio abrasivo come siete abituati a fare. Al contrario l'Hydro Inert minimizza quindi la necessità di fermare lo strumento e ci consente di lavorare riducendo anche questi aspetti. Tutto questo ci porta dei vantaggi economici quindi a livello di budget diciamo questo approccio ci dà diversi vantaggi sia logistici che di operatività e quindi ovviamente sono aspetti molto importanti che vanno considerati nell'ambito delle attività di un laboratorio. Un primo esempio di quello che l'Hydro Inert può fare per noi. Potete per esempio qui vedere lo spettro del nitro benzene ottenuto con carie di idrogeno con una sorgente convenzionale in alto a sinistra. Questo non è rappresentativo di quello che ci aspetteremmo, se infatti paragonate questo spettro con lo spettro sulla destra che è lo spettro di libreria vedete che c'è una discrepanza. Questo perché il nitro benzene in presenza di carie di idrogeno può reagire, reagisce e viene convertito in anilina. I risultati mostrati da Agile ci fanno vedere come invece con la sorgente Hydro Inert che minimizza queste interazioni secondarie che possono avere luogo con l'idrogeno abbiamo di nuovo uno spettro compatibile, uno spettro diciamo all'alta fedeltà rispetto alla libreria. Inoltre abbiamo qui nuovamente un rapporto degli ioni corretto e abbiamo anche una forma di picco che torna ad essere quella attesa grazie alla mancanza di queste interazioni indesiderate. Quindi questo è un primo esempio del fatto che l'Hydro Inert può risolvere dei problemi inerenti all'utilizzo di carie di idrogeno. Bisogna però prestare molta attenzione perché questo è vero assolutamente per molte applicazioni, come riportato anche da innumerevole letteratura di Agile, allo stesso tempo non per tutte le applicazioni tutte le problematiche che si cita verranno risolte. Vedete in questa tabella degli esempi per esempio per nitro composti abbiamo appena visto un esempio la sorgente Hydro Inert si differenzia e ci dà un valore aggiunto, per altre applicazioni questo può non essere vero, potrebbe essere che non tutti i problemi sono risolti. Quindi il tutto va soppesato in maniera mirata rispetto all'applicazione di interesse. Poco secondi per aggiungere che Agile non è l'unico dei nostri partner e forcutori che negli ultimi anni ha reso disponibili dei prodotti tenendo in considerazione l'utilizzo dell'idrogeno e il passaggio della tecnica GCMS a idrogeno. Abbiamo per esempio presso il nostro laboratorio anche uno spettrometro di massa a tempo di volo Benchtoft 2 di CepSolve, questo secondo modello recente di spettrometro di massa a tempo di volo è stato completamente certificato per uso in idrogeno come carrier e quindi diciamo che lo sviluppo tecnico non si ferma e abbiamo a nostra disposizione diverse soluzioni analitiche in questo ambito. Ora andrò a darvi una panoramica dei testi eliminari che abbiamo svolto presso il nostro laboratorio, c'è Musco sul Naviglio, il SRA, utilizzando un sistema GCMS Agile, quindi un GC8890 con un quadrupolo Agile, per vedere i potenziali vantaggi e confermare i potenziali vantaggi dell'assorgente Hydro-Inner e paragonarla a quello che si può ottenere utilizzando l'idrogeno con un assorgente classica, diciamo convenzionale. Allora sono partita con delle prove su dei VOC, composti che vengono normalmente, quindi composti organici volatili, che vengono mediamente analizzati magari utilizzando un purgen trap, per spazio di testa e così via. All'inizio, come primi test, ho iniziato con delle analisi di iniezione liquida su una sorgente di riferimento convenzionale extractor. Potete qui vedere i due cromatogrammi utilizzando con la medesima sorgente l'elio e l'idrogeno. Ora andrò a sovrapporre i due cromatogrammi per rendere più, per facilitare diciamo il paragone. Questi si tratta di dei cromatogrammi, in questo caso in modalità scan, e quello che potete vedere è che la linea di base per l'idrogeno è significativamente più alta e per molti dei picchi, non tutti, il segnale risulta ridotto. Quindi abbiamo una generale riduzione della sensibilità, anche se dipende molto da composto a composto. In alcuni casi manteniamo la sensibilità, in molti altri vediamo un decremento dei picchi. Un esempio, in questo caso, il tricloro etilene e come potete vedere il picco in questione subisce un notevole abbassamento passando al cario di idrogeno con una sorgente extractor convenzionale. Inoltre, se andiamo a estrarre uno spettro, vediamo che questo non è subito ricercabile in libreria perché il fondo è troppo alto. Con una semplice rimozione del fondo andiamo ad avere uno spettro assolutamente buono e che possiamo cercare sulle librerie commerciali. Diciamo che questo background più alto ci rende ancora più importante eseguire una corretta eliminazione, riduzione del fondo. Andando a verificare le prestazioni in modalità SIM, che è la modalità tipicamente usata per il monitoraggio ambientale di questi composti, andiamo a vedere che la fedeltà spettrale viene però più conservata. Il rapporto qualifier-quantifier è mediamente uguale o molto simile a quello dell'elio, abbiamo delle piccole variazioni. Diciamo che questi risultati sicuramente sono incoraggianti ma ci fanno capire che c'è margine per migliorare le prestazioni in idrogeno. E questo margine è l'utilizzo dell'AidroInert ovviamente. Noi abbiamo testato in prima persona questa sorgente e potete qui vedere un primo paragone di cromatogrammi tra l'elio e l'AidroInert in idrogeno. Senza neanche spingere troppo coi flussi, vedete che la velocità di analisi è aumentata e vedete che in questo caso il rapporto c'è nel rumore dei picchi va a migliorare. Questo lo possiamo vedere in questa slide dove ho preso alcuni composti come esempio. Potete vedere che andando dal picco di riferimento in modalità sim che è quello in rosso con una sorgente convenzionale l'elio, andando in idrogeno picco in arancione vediamo una diminuzione del picco, non estrema ma visibile, andando con l'AidroInert picco in verde torniamo ad avere un picco, un segnale rumore paragonabile a quello che avevamo con l'elio. Quindi l'AidroInert ci sta sicuramente migliorando la sensibilità rispetto a quella ottenibile con l'idrogeno con una sorgente convenzionale. Stessi esempi su altri composti, come potete vedere in questo caso l'effetto è ancora più marcato. In questo caso si tratta di composti bromurati. Quello che abbiamo osservato è che per tutti i composti bromurati questo effetto è molto molto accentuato. Questo non è vero per tutte le classi di composti per i bromurati è particolarmente critico. Infatti per i bromurati abbiamo un abbattimento del segnale molto molto importante passando all'idrogeno e questo viene però risolto in maniera brillante utilizzando l'AidroInert. Quindi è un bellissimo esempio di come in questo caso l'AidroInert ci risolve sicuramente un problema e ci garantisce prestazioni analitiche eccellenti. Un secondo test applicativo è il, in questo caso era una miscela di allergeni, anche in questo caso abbiamo un'analisi più veloce e addirittura migliorata in un tempo più breve perché andiamo a risolvere dei picchi che prima non erano diciamo risolti. A livello di spettro otteniamo una buona consistenza rispetto a quello a quanto ottenuto in Elio con l'AidroInert in idrogeno e vediamo che se ci sono delle variazioni sono estremamente ridotte in questo caso quindi questi sono dei risultati molto promettenti. Questo è stato confermato andando a valutare i match factor per tutti gli allergeni diciamo che abbiamo investigato rispetto a una libreria commerciale. Come potete vedere in questo caso abbiamo un match factor molto molto buono per tutti i nostri composti. In tutti i casi il match factor è infatti migliore di 900. Quindi questo ci diciamo conforta sul fatto che l'AidroInert ci dà in questo caso in questa applicazione una buona fedeltà spettrale. Se andiamo però ad analizzare miscele più complesse quali gli oli essenziali in cui posso anche andare a cercare gli allergeni di qui sopra la situazione può anche complicarsi. In questo caso per esempio ho una miscela molto complessa quindi se voglio caratterizzarla devo utilizzare un approccio di deconvoluzione. In questo caso fatto col software Agilent a non analisi. Quello che abbiamo visto è che andando in modalità target, quindi andando a cercare i miei target nella miscela complessa otteniamo dei risultati buoni ma ogni tanto rischiamo di perderci un composto perché questo non viene in base alle coeluzioni, poi lo spettro che viene deconvoluto non è una qualità sufficiente per trovare tutti i nostri target. La cosa diventa ancora più critica se noi andiamo in modalità target. Andando infatti in modalità target dobbiamo avere una buonissima fedeltà spettrale rispetto alle librerie commerciali, questa però può variare per le varie classi di composti. È difficile garantire, non si può garantire che tutti i composti avranno uno spettro esattamente identico a quello che si otterrebbe meglio, dipende molto dalla chimica. Quindi quello che abbiamo ottenuto è un processo di deconvoluzione e la seguente ricerca di libreria un pochino meno efficace. Quindi questo aspetto è sicuramente da tenere a mente. Arrivo quindi alle mie conclusioni e vorrei sottolineare che sul nostro sito trovate la nota applicativa in cui tutto questo viene esplicato in maggior dettaglio. Il messaggio finale dal mio punto di vista è che l'HydroInert è sicuramente una buonissima soluzione per passare dall'elio all'idrogeno in GC Massa. Il cambio della sorgente è molto molto rapido e semplice, non è assolutamente problematico, si fa in un tempo estremamente contenuto. Ci sono evidenti migliorie nell'utilizzare l'HydroInert, quindi se si vuole fare il GC Massa eliminando l'elio sarebbe sicuramente opportuno considerare la sorgente HydroInert. Per analisi di tipo target sicuramente non vedo grossissime difficoltà, va verificata che la sensibilità rimanga opportuna rispetto ai limiti di interesse, però diciamo che avendo degli standard a disposizione l'analisi di tipo target dovrebbe essere facilmente traslabile in idrogeno. La situazione diventa chiaramente più critica se si vuole fare un'analisi antarget perché non si può garantire a priori che tutte le classi chimiche potenzialmente presenti nel nostro campione si comporteranno in maniera ideale, ci daranno un'altra fedeltà spettrale che però è essenziale per l'antargeted con carrier idrogeno. Quindi in questo caso la situazione va valutata bene e va pensata in base all'applicazione di interesse. A questo punto io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e passo molto volentieri la parola al collega Daniele Morosini che andrà a approfondire l'aspetto applicativi e di interfaccia con anche preparazione e introduzione del campione. Grazie mille, a te la parola Daniele. Buongiorno, grazie Daniele per la tua presentazione. Io sono Daniele Morosini, Senior Environmental Application Specialist. Mi occupo in SRA per l'appunto di applicazioni ambientali soprattutto in matrice acqua e aria. Oggi l'obiettivo di questa presentazione è appunto quello di parlarvi di due applicazioni specifiche per l'analisi di VOC in acqua e aria. La prima di cui vi parlerò è la più classica delle analisi dei VOC in acqua, quella dei VOC soprattutto con particolare riferimento al decreto legge 152 del 2006. Per quanto riguarda le acque sotterranee, per questo tipo di determinazione, visti i limiti molto restrittivi e prescritti dalla normativa per le acque sotterranee, l'unica via per raggiungere tali limiti è quella della determinazione della preconcentrazione degli analiti mediante tecnica purgentrap. Fino a poco tempo fa l'unico modo per raggiungere suddetti limiti era quello di utilizzare l'elio sia come gas nella parte di parge, quindi per lo stripping degli analiti dal campione acquoso all'interno dell'ampolla in vetro e il successivo trasferimento nella trappola di arricchimento. L'elio era anche necessario all'interno del sistema GCMS per poter avere le migliori performance possibili e raggiungere i limiti di un PPT per le due molecole normate a tale limite. Nel 2023 ci siamo prefissati di liberarci da questa dipendenza dall'elio per questa applicazione specifica, per cui presso i nostri laboratori di Cernusco abbiamo iniziato una sperimentazione. La sperimentazione l'abbiamo suddivisa fondamentalmente in due parti principali. Inizialmente abbiamo ottimizzato la metodica passando da elio ad azoto nella parte purgentrap, per cui abbiamo sviluppato, effettuato tutti i controlli necessari per valutare appunto sensibilità, ripetibilità, linealità in questa configurazione azoto ed elio nella parte GCMS. Per cui nella prima metà del 2023 una prima application note era stata pubblicata in questa configurazione. Il passaggio successivo è stato quello di upgradare il sistema GCMS presente presso il nostro laboratorio, upgradarlo come già detto dalla collega con una sorgente hidroinert, quindi siamo passati dal carrier elio al carrier idrogeno, quindi sorgente hidroinert e gas idrogeno proveniente da un generatore. Come possiamo vedere da questo cromatogramma, i tempi di analisi si sono rivelati immediatamente molto più brevi rispetto all'utilizzo dell'elio per lo stesso gruppo di analiti, i viossi nelle acque appunto. Diciamo che nella nostra ottimizzazione ci siamo fermati a un cromatogramma di 12-13 minuti senza spingerci oltre nel accorciare i tempi di analisi, in quanto la metodica, l'EPA 50-30 in particolare, prevede una preparativa del campione in cui il campione acquoso viene fatto gorgogliare per 11 minuti a 40 ml minuto. A questo vanno aggiunti poi i tempi tecnici, quali i tempi per l'eventuale dry parge del campione all'interno della trappola, tempi di disorbimento che nello specifico noi utilizziamo 30 secondi di disorbimento per poter trasferire più rapidamente possibile gli analiti in testa alla colonna, più il bake per la pulizia finale di tutto il sistema. Insomma, al di sotto dei 15-16 minuti il ciclo di analisi, se bisogna essere compliance alla metodica, risulta insomma piuttosto complicato, per cui era inutile accorciare ulteriormente i tempi di analisi. La sfida diciamo più importante di questa messa a punto era quella di raggiungere le sensibilità richieste utilizzando il carrile idrogeno e l'azoto come gas di parge. Questa è una delle due molecole normate a un PPT, i due ioni specifici sono il 107, lo ione target della molecola 1-2 di brometano, e lo ione 109 come ione qualificatore. Per entrambi gli ioni insomma si vede come il rapporto segnale e rumore è buono, il picco si distingue chiaramente dalla linea di fondo, insomma il limite di rievabilità richiesto viene raggiunto. Per dare una idea riporto sulla destra quello che è il PPT ottenuto utilizzando carrier elio. Si vede chiaramente che sia dai numeri, insomma vediamo qui un rapporto segnale e rumore di 220 a 1 contro un 140 a 1 per l'idrogeno e anche per l'ione qualificatore siamo circa il doppio, 61 contro 120 a 1. Quindi sicuramente abbiamo perso leggermente in termini di sensibilità, però siamo ancora diciamo abbiamo un livello di sensibilità tale che ci permette di soddisfare le richieste della norma. La seconda molecola normata a un PPT è l'123 tricloropropano, questa molecola come ione target il 75 è qualificatore lo ione 110. Questi due io oltre ad uscire in una zona un po' più affollata del cromatogramma sono anche degli ioni un po' comuni a diverse molecole per cui diciamo il risultato per questa molecola è un po' più difficoltoso, però ancora una volta abbiamo un rapporto segnale e rumore che è buono e che ci permette di distinguere insomma il picco dal rumore di fondo. Lo stesso picco anche stavolta acquisito sempre un PPT in elio, abbiamo anche questa volta si vede chiaramente come il risultato sia leggermente migliore. In questa slide ho voluto riportare ancora una volta per le due molecole la traccia del bianco, quella del cromatogramma a un PPT e quello che potrebbe, diciamo, consideriamo attualmente l'LOD del metodo in idrogeno che è circa 0,3-0,4 PPT, che è il picco più basso che si distingue ancora chiaramente dal rumore di fondo. Fatta, diciamo, fatte queste prime verifiche sulla sensibilità che erano poi quelle che più ci preoccupavano all'inizio di questa sperimentazione, abbiamo proceduto poi con gli altri controlli richiesti dal metro, quindi abbiamo valutato la linearità del metodo, abbiamo valutato la ripetibilità, il bias e abbiamo riportato, insomma, effettuato tutti i controlli necessari per la validazione del metodo dei biossini e le acque. I risultati per il bias sono molto buoni, abbiamo un bias di circa il 2% per entrambe le molecole alla concentrazione di un PPT, quindi la buona linearità, diciamo, dei risultati ottenuti nelle calibrazioni hanno permesso poi ovviamente di conseguenza di ottenere degli ottimi risultati sia in termini di bias che in termini di coefficiente di variazione percentuale, che per l'1,2 di brometano siamo al 3,5%, per l'1,2,3 tricloropropano al 3,75%, insomma, due risultati anche in questo caso molto simili. Faccio vedere le rette di calibrazione. Queste rette che vi mostro in questa slide sono sempre per le due molecole normate a un PPT, sono delle rette a 7 livelli di calibrazione, ciascun livello è stato replicato per 3 volte, per cui, come potete leggere qui in alto, ciascuna retta è costituita da 21 punti, quindi questa maggior conferma dei dati che abbiamo appena visti relative ai coefficienti di variazione percentuale. La retta è stata costruita in automatico, per cui il sistema di campionamento, il Centurion, ha un sistema di diluizione automatico in grado di effettuare delle diluizioni fino al rapporto di 400 a 1, per cui l'operatore ha preparato una soluzione madre iniziale, dopodiché sono stati scelti sette livelli di diluizione differenti per ottenere successivamente, costruire in automatico queste curve. I sistemi di diluizione automatico sono molto affidabili e ci danno sempre degli ottimi risultati. In questa tabella di destra invece volevo far notare che qui è stata riportata due colonne con i coefficienti di correlazione, perché oltre a questa retta nel range basso, che sarà fatta per ottenere una quantitativa più accurata degli analiti normati al PPT, sono state effettuate anche delle rette con 15 livelli di calibrazione che arrivano fino a 4 PPB. Poi chi volesse approfondire questi dati sono a disposizione sull'application note che abbiamo preparato relativamente proprio a questo argomento. Quindi anche andando a prendere un numero di punti maggiore, quindi su un range di concentrazione molto più ampio, si ottengono ancora dei coefficienti di correlazione molto buoni. essendo così prossimi a 1, diciamo anche le accurasi su ciascuna analita sono molto prossime al 100%. Ho riportato ancora delle rette relative alle altre due molecole normate sotto i 100 PPT, più precisamente a 50 PPT all'interno del decreto legge 152, sono l'1.1 di cloroetilene e l'1.1 tetracloroetano, per la quale appunto ci si aspetta di raggiungere un limite di liveabilità di almeno 5 PPT, diciamo un decimo del limite di legge. Anche in questo caso i risultati sono molto buoni, i picchi, come vedete qui sulla sinistra, perfettamente distinguibili, insomma la sensibilità più che sufficiente per raggiungere quanto richiesto. Effettuato tutto questo lavoro di messa a punto, diciamo, del metodo dal punto di vista hardware, dei parametri e di tutta la configurazione del sistema, abbiamo anche sviluppato e messo a punto tutti i controlli previsti dalle metodiche EPO 8260 relativamente a poi a un successivo accreditamento del metodo analitico dei biosi nelle acque. Il software massenter permette di di automatizzare all'interno di sé tutti i controlli previsti dalla metodica EPA e di generare a sua volta anche i report dedicati a ciascun controllo. Questo ovviamente poi porta all'operatore finale un notevole risparmio di tempo perché dopo aver precessato i propri campioni si ritroverà già tutta la reportistica dedicata ai controlli, come ad esempio qui, e li ho riportati schematicamente, il BFB-Toon per verificare il rapporto isotopico fra le righe spettrali, l'inizial calibration che può essere effettuata con il response factor oppure a sei punti con una normale regressione, quindi la verifica dei coefficienti di correlazione, l'inizial calibration verification, cioè quella che viene fatta con uno standard di un lotto esterno a quella utilizzata per l'inizial calibration, la continuous calibration che deve essere effettuata ogni 12 ore, i matrix spike, surrogati bianchi, insomma tutti i controlli previsti dalla metodica nel nostro pacchetto applicativo vengono implementati nel momento in cui consegniamo al cliente la strumentazione per le analisi, per cui come vi ho già detto per ciascuno dei controlli previsti all'interno del software mass hunter, sono già previsti e implementati i report relativi ai diversi controlli. A completamento di tutto questo pacchetto abbiamo avuto da alcuni clienti delle richieste di poter effettuare delle carte di controllo, questa funzione non è più presente all'interno del software mass hunter, per cui si è deciso di sviluppare un macro in grado di trasferire in automatico i dati presenti all'interno delle tabelle di mass hunter all'interno di fogli excel e quindi poter compilare tramite un comando molto semplice in automatico i fogli excel e le carte di controllo relative a n molecole che si decide di utilizzare come quality control per il sistema di qualità della metodica. Per cui a disposizione oltre a tutto quanto già presente all'interno del software agilent mass hunter abbiamo anche una macro sviluppata internamente in SRA che permette la compilazione e l'esportazione automatica dei dati presenti nel software mass hunter. Per concludere l'applicazione relativa ai VOC in idrogeno vorrei parlare del decreto legge 18 del 2023 relativo alle acque portabili che sottopone i fornitori di acque all'interno delle reti pubbliche ha degli obblighi di effettuare dei controlli sulle acque immessi all'interno delle reti. Capite che qui ho inserito la tabella che specifica il numero di controlli che va effettuato sul campione immesso in rete in base ai volumi distribuiti. Per le reti di distribuzione delle acque più grandi il numero di controlli inizia a diventare piuttosto importante. Parliamo di 12 controlli giornalieri per i primi 100.000 metri cubi d'acqua più un ulteriore controllo ogni 25.000 metri cubi. Per cui questo cosa significa? Che alcuni enti si stanno attrezzando o si sono già attrezzati per effettuare il controllo direttamente online proprio nel punto di emissione all'interno delle reti delle acque potabili. Per cui non risultando più tanto conveniente andare a campionare e a portare il laboratorio il campione di volta in volta. Questo è un sistema che lavora in continuo, in automatico, quindi ha un sistema loop che è il campione in continuo dalla rete e ogni 20 minuti circa trasferisce il campione all'interno del sistema Purgen Trap per l'analisi degli alometani e altri B o C, quali benzene, insomma quelli previsti all'interno del decreto legge 18. La seconda invece applicazione di cui vi parlerò quest'oggi è quella legata al mondo dell'aria, quindi ai B o C in aria. Noi siamo distributori di Marques International che è un'azienda leader nei prodotti per l'analisi in termo di esorbimento sia con canister che con tubi. I sistemi di Marques sono da qualche anno abilitati a lavorare con carrier idrogeno, per cui le linee abilitate a lavorare in idrogeno sono chiamate da Marques linee multigas, quindi permettono di effettuare l'esorbimento e lavorare in carrier idrogeno. Tra l'altro, approfitto di questo webinar per ricordare che fino al prossimo giugno le linee multigas di Marques sono in promozione allo stesso prezzo delle linee non multigas. A questa serie di termodesorbitori per tubi e canister ovviamente il portafoglio è completato con una serie di accessori quali sistemi per il condizionamento dei tubi, le microcamere che sono dei sistemi per analisi di emissioni da materiale, per cui abbiamo delle camere all'interno del quale viene posizionato un materiale e in condizioni di temperatura e flusso controllato si affetta un vero e proprio spazio di testa dinamico con l'arricchimento degli analiti all'interno dei tubi per termodesorbimento e la successiva analisi all'interno del termodesorbitore. Poi abbiamo ancora campionatori da canister in grado di campionare fino a 32 tubi in serie, in automatico, quindi viene posizionato in campo e il sistema a intervalli di tempo programmabili procede a campionature a campionature sequenziali su tubi, pompette di campionamento e altri sistemi accessori per il campionamento con tubi. Questa è una delle ultime installazioni, è un sistema GCMS con sorgente HydroInert, un termodesorbitore della linea Multigas per l'appunto e come vedete qui sulla sinistra un generatore che alimenta entrambe le macchine. Quindi questo è uno dei primi sistemi che possiamo definire Helium-Free, quindi non utilizza per niente Helium per l'analisi dei VOC in campioni di aria. Ancora, vi mostro un paio di installazioni, ancora, questo è un sistema molto particolare perché è dotato di tre detector, un FID per l'analisi di idrocarburi principalmente, un PFPD per i solforati e uno spettrometro di massa. Quindi l'eluito dalla colonna primaria viene splittato tra i tre detector con l'obiettivo di fare analisi di tipo UNTARGET. Come vengono sfruttati i tre detector? La qualitativa viene effettuata tramite lo spettrometro che fornisce degli spettri e quindi un buon riconoscimento delle molecole. Per la quantitativa di composti UNTARGET, di cui quindi non si dispone uno standard, si sfruttano i fattori di risposta di detector analogici che ci permettono appunto di fare una semi quantitativa dei composti di cui non si possiede uno standard. Ancora vi mostro un altro sistema, che è un sistema completo di Marques che permette di fare in un'unica linea sia analisi di tubi che di canister per cui abbiamo tutto accoppiato a un sistema GCMS di Agilent ma ancora particolare, ho messo un ingrandimento qui sul lato destro, la presenza di una porta olfattometrica quindi per poter dare una caratterizzazione olfattiva delle molestie olfattive appunto è stata inserita una porta olfattometrica dove l'operatore può annusare il singolo picco e dare una sua descrizione sensoriale. Ecco, questo è uno zoom del sistema completo già operativo presso il nostro cliente. Questa è l'applicazione invece che ha sviluppato direttamente Marques presso i propri laboratori di Cardiff anche in questo caso si nota subito come a parità di applicazione lo stesso cromatogramma risulta il 40-50% più corto rispetto allo stesso cromatogramma effettuato in elio per cui andando proprio a guardare questo schema si vede come a parità di tempo diciamo qua siamo circa 200 minuti 3 ore, 3 ore e mezzo in elio lavorando in modalità overlap si riuscirebbero a processare 5 campioni circa a parità di analiti utilizzando idrogeno come gas carrier e come gas anche, ricordo, anche all'interno dei sistemi di termoessorbimento il numero di campioni processati raddoppia per cui oltre a tutto quanto già spiegato dalla collega Peroni l'utilizzo del carrier idrogeno permette di aumentare la produttività strumentale all'interno dei laboratori e quindi rendere più efficiente tutto il sistema ovviamente la cromatografia in idrogeno risulta ancora migliore di quella in elio per cui un dettaglio sui singoli picchi si parte da un C3 e il propene fino al naftalene alle saclorobutadiene insomma un range di analiti piuttosto ampio da fare in termoessorbimento qui hanno riportato un confronto fra le sensibilità in elio e in idrogeno nella tabella di destra vediamo i dati numerici in termini di sensibilità possiamo dire che questi dati sono molto simili sia utilizzando elio che idrogeno probabilmente sembrerebbe forse leggermente meglio quello in idrogeno però mi sentirei di dire assolutamente del tutto paragonabili ancora nella validazione e sviluppo del metodo ancora la valutazione sulla linearità dei singoli analiti quindi una linearità che è ancora speriore allo 0,99 per tutti gli analiti presi in considerazione in questo studio un dettaglio su alcuni spettri questo è il tetraclorometano i due spettri acquisiti in elio e in idrogeno risultano molto simili ancora abbastanza simile è quello del clorometano è leggermente diverso il rapporto fra le righe spettrale per il benzina cloridre ma ancora sufficientemente buono concluderei questa presentazione parlandovi di uno degli ultimi prodotti presentati da Marques il Sentry il Sentry è un sistema di arricchimento in grado di sfruttare il concetto sulla quale si basano tutti i termoresorbitori Marques il concetto della trappola fredda i prodotti presentati da Marques si dividono in tre sottoprodotti il Sentry 90, il Sentry 180 e il Sentry 360 anche questi prodotti sono prodotti multigas quindi in grado di lavorare con carri di idrogeno più nel dettaglio il Sentry 90 è un sistema all'interno del quale è presente una trappola fredda che permette un multiple headspace o quello che viene anche chiamato headspace trap ossia il campionamento nello spazio di testa viene iniettato all'interno di questo sistema Sentry e gli analiti trattenuti nella trappola fredda che tramite un raffreddatore di tipo Peltier viene tenuta fino a meno 30 gradi sotto zero per cui è possibile fare una, due, tre iniezioni di spazio di testa nonché di SPME arricchire gli analiti sulla trappola fredda e poi disorbire una sola volta la trappola fredda per il trasferimento in colonna e la successiva analisi a questo abbiamo il modello superiore è il Sentry 180 che permette, come vediamo qui sul lato destro l'automatismo dei tubi quindi oltre a sfruttare quello che abbiamo già visto per il Sentry 90 è possibile anche effettuare il disorbimento dei tubi e quindi l'analisi di campionamenti di aria principalmente ma non solo, i tubi vengono utilizzati anche per l'assorbimento del retto e studio di materiali per esempio o ancora per l'analisi con le cosiddette iSorb iSorb sono dei probe ricoperti da polidimetilsilossano o altri materiali assorbenti che vengono utilizzati un po' come si fa per le SPME per le SPME per arricchire il campione e termodesorbirlo con il Sentry 180 non è previsto questo automatismo ma possono essere gestite manualmente le fibre iSorb poi posizionate all'interno dei tubi di termodesorbimento ed esorbite e successivamente analizzate il portafoglio di prodotti si completa invece col Sentry 360 che è anche l'automatismo completo delle fibre iSorb con questo vi saluto e vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar grazie mille grazie Daniele e adesso direi di venire ad un altro momento quello delle domande ne sono arrivate davvero tante per cui mi fa molto piacere adesso riattivo anche tutte le nostre webcam così che possiate tornare a vederci eccoci qui allora non so se riusciremo a rispondere a tutte quindi io ne abbiamo selezionato una parte non vi preoccupate perché ovviamente poi dopo condividerò le domande che sono arrivate con i miei colleghi che vi risponderanno direttamente Daniele ancora non ti vediamo per cui se poi riesci a riattivarla perfetto l'importante è quello allora Daniele magari intanto inizio con te visto che ha appena finito Daniele allora io ne ho due in particolare la prima è quali sono le principali criticità se si usa il carrier idrogeno per analisi untargeted questa è un'ottima domanda sì fondamentalmente il concetto principale è quanto affidabile sia la qualità spettrale quindi la ricerca su librerie basate comunque su spettri acquisiti in edio quindi fondamentalmente andrebbe verificato in base anche un po' all'applicazione di interesse se è implementabile o meno va detto che nonostante le grandi migliorie presentate dall'HydroInert avere una certezza a priori che tutti i composti presenti nel nostro campione risponderanno con uno spettro assolutamente compatibile a quello in eglio poterlo garantire a priori non è scontato quindi diciamo che l'unica soluzione reale a mio avviso per poter fare un'analisi untargeted con piena fiducia e attendibilità sarebbe l'implementazione di librerie in idrogeno fino a quando questo non verrà questo tipo di lavorazione dati va approcciata con molta molta cautela ok grazie ti faccio la seconda che è arrivata e mi chiedono se posso usare l'elio come carrier con la sorgente HydroInert ok domanda legittima la risposta è no nel senso che comunque Agilent con la sorgente HydroInert indica di utilizzare solamente l'idrogeno il motivo è il seguente la sorgente HydroInert diciamo non richiede come ho accennato una pulizia abrasiva si basa sul fatto che l'idrogeno stesso funge una funzione applica una funzione di pulizia utilizzando l'elio questa funzione viene meno ma la sorgente non è pensata per poter essere pulita con le metodologie tradizionali quindi non è che non funziona con l'elio ma poi abbiamo il problema della pulizia e quindi rischiamo di compromettere sorgente grazie Daniele quali sono le dotazioni invece strumentali necessarie per operare in sicurezza con l'idrogeno? ah sì beh diciamo che i sistemi fondamentalmente sono due diciamo già in sito nel GCMS ci sono dei sistemi di sicurezza quali le EPC che qualora rilevino dei flussi o il non raggiungimento delle pressioni impostate abbassano tutte le temperature all'interno del sistema GC-GCMS il generatore di idrogeno stesso quando rileva dei flussi importanti immediatamente va in spegnimento e non alimenta più il sistema a tutto questo di solito si completa posizionando all'interno del forno del gas cromatografo un sensore per idrogeno e meglio ancora magari anche nel laboratorio quanto gas invece è necessario per processare una campione di acqua in Purgen Trepp? Sì allora all'incirca siamo all'incirca fra un litro e due e due litri la metodica prevede un 11 minuti di parge a 40 ml minuto quindi più alcuni minuti per i vari dry parge di esorbimento nonché il bake dove il flusso è ancora più alto diciamo che bisogna considerare che tra Purge e GC saremo all'incirca due litri di gas a campione poco meno poi a seconda di come viene ottimizzato il metodo ok allora l'utilizzo di idrogeno comporta una manutenzione specifica per il GC MS in particolare la sorgente Hydro Inert chiedono questo si collega un po' alla domanda precedente quindi ho già parzialmente risposto quindi mi permetto Daniele di prendere di nuovo la parola io e diciamo di no nel senso che in caso la manutenzione è ridotta perché appunto essendo la sorgente Hydro Inert soggetta a questo processo di self cleaning o autopulizia durante l'operazione diciamo non si richiede un'attenzione particolare dal punto di vista della massa anzi abbiamo meno manutenzione da effettuare anzi in prima persona quello che posso dire è che quello che ho visto è che con l'utilizzo la sorgente andava a pulirsi sempre di più e quindi anzi più la si utilizza e meglio diventava il fondo e le prestazioni almeno per il tempo diciamo comunque ridotto in cui ho avuto modo di lavorarci vi faccio un'altra domanda sempre arrivata dai nostri partecipanti oggi siete particolarmente numerosi sia sin dall'inizio quindi vi ringraziamo molto per quale motivo non è stato provato l'idrogeno come gas di strippaggio nelle prove di purgen trap con azoto avete prolungato il tempo di strippaggio rispetto all'elio allora non abbiamo prolungato il tempo di strippaggio rispetto all'elio utilizzando azoto anzi avremmo voluto accorciarlo in realtà perché oramai l'obiettivo è sempre quello di rendere più efficiente la strumentazione quindi aumentare la produttività non abbiamo fatto neanche quello di accorciare perché come dicevo durante la presentazione l'EPA 5030 prescrive questi 11 minuti a 40 e mele minuto è sempre per l'EPA il motivo per cui non abbiamo uno dei motivi per cui non abbiamo provato a fare il parge in idrogeno perché l'EPA prevede l'utilizzo o di azoto o di elio quindi quando abbiamo rivolto perché l'abbiamo rivolta la richiesta al produttore IST analitica ci hanno detto eh no ma ci potete dare un minimo di sicurezza una certificazione per l'utilizzo di idrogeno con le macchine domani sì ma noi non abbiamo portato avanti la cosa perché l'EPA non prevede l'utilizzo di idrogeno questa è la risposta perfetto grazie ne ho un'ultima se si possono usare anche allora vediamo si possono usare anche con colonne ID da 0,25 millimetri vuoi rispondere tu Daniele rispondo io per me è uguale prego prego stavi iniziando forse mi volevo ci stiamo scambiando ok scusa beh la risposta direi sì cioè non ci sono particolari problematiche nell'utilizzare colonne di diametro diverso l'unica cosa da tenere a mente è il flusso perché l'idrogeno richiede pressioni più basse per avere lo stesso flusso volumetrico a parità di geometria della colonna rispetto all'elio quindi l'unico rischio è quello se abbiamo vogliamo un flusso basso un diametro più ampio è quello di avere una pressione all'iniettore che risulti troppo bassa quindi magari ci viene richiesto di alzare un minimo il flusso per avere una pressione sensata all'iniettore ma questo mediamente ha un vantaggio perché il flusso più veloce ci dà anche un'analisi più ridotta cosa che di solito è favorevole quindi va solamente visto questo aspetto ma assolutamente compatibile di colonne leggermente più lunghe in maniera tale da compensare quel gap di pressione perché a volte se si vuole lavorare con un ml minuto e la colonna classica 30 metri 0,25 la pressione da impostare in testa nell'iniettore è troppo bassa e il GC potrebbe dare degli errori va bene direi che per il momento le domande le abbiamo concluse come vi dicevo ce ne sono altre ma vi risponderemo direttamente qui vi volevo anche riportare tutte le le nostre email alle quali ci potrete raggiungere se volete a chi ricevere la nota applicativa che vi ha mostrato la dottoressa Peroni potete scrivere a me a marketing oppure direttamente alla dottoressa o al dottor Morosini io ve lo ricordo lo sapete abbiamo un canale di youtube dove raccogliamo comunque le registrazioni dei nostri webinar nel caso in cui li voleste rivedere anche nel tempo e per quanto i ce lo richiedono direi entro la giornata di oggi o al massimo domani riceverete anche il nostro attestato di partecipazione seguiteci su linkedin sul sito avremo presto nuovi webinar su anche altre tematiche sia con la partecipazione di Daniela e Daniela che di altri colleghi specialisti quindi non perdetevi i prossimi appuntamenti noi vi aspettiamo e vi ringraziamo perché siete sempre numerosi e sempre attenti e state con noi dall'inizio alla fine quindi grazie da parte di tutti buona giornata arrivederci grazie